Sono circa le 8.30 del mattino, ci troviamo qui a Piazza Cortemiglia per la partenza e per andare verso la Merana, sui Calanchi. Ci vediamo un po' più avanti. Ci vediamo un po' più avanti. Ci vediamo. 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 Ciao. Ci vediamo. Ci vediamo. Ci vediamo. Ciao. Ci vediamo. Ci vediamo. C'è il risultato! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti